Salve a tutti, mi chiamo Marco Barbieri, sono un economista sanitario che lavora come consulente associato all'Università di York e vi presento questo lavoro che è stato svolto in collaborazione col professor Riccardi dell'Università di Genova e con la professoressa Boccalini e il professor Bonani dell'Università degli Studi di Firenze. L'obiettivo dell'analisi è stato quello di valutare, mediante un modello matematico, il potenziale impatto di diverse coperture sulla popolazione italiana di un alto numero di vaccini che sono attualmente raccomandati dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e potete vedere quali sono state le vaccinazioni considerate per adulti, per adolescenti e per bambini. Come abbiamo detto, il modello è stato fatto in Microsoft Excel e l'obiettivo è stato quello di stimare sia i costi dovuti alle vaccinazioni che i potenziali risparmi a differenti livelli di copertura, che sono stati basati su tre possibili scenari. Non vaccinazione, quindi vaccinazione al 0%, la vaccinazione alla copertura attuale e la vaccinazione con alcune coperture target, che sono quelle stabilite dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale. Il modello è un modello di coorte, quindi abbiamo seguito varie cohorti per ogni tipo di modello e non è dinamico. Abbiamo calcolato il ROI per ciascun modello in un'orizione temporale conforme al tipo di vaccinazione. Vi faccio alcuni esempi. Per primo, quello del vaccino HPV. Abbiamo considerato una coorte di 12 anni, sia maschi che femmine, e una vaccinazione con il vaccino Gardasil 9. Di nuovo abbiamo comparato no vaccinazione con vaccinazione attuale, di cui vedete i valori, e la vaccinazione target. E potete vedere anche i valori, i tipi di input che abbiamo inserito, quindi lifetime risk, i costi diretti, costi indiretti, e l'analisi è stata lifetime. Vi faccio presente, come era scritta nella diapositiva precedente, che abbiamo utilizzato una prospettiva della società in tutte le analisi, e quindi abbiamo considerato anche i costi indiretti. Come potete vedere da questa diapositiva, il ROI, cioè il Returnal Investment della vaccinazione HPV, è positivo, sia se compariamo la vaccinazione attuale con la no vaccination, che se compariamo la vaccinazione target, quindi un aumento di copertura rispetto a no vaccination. Siamo sempre sopra l'uno, quindi sono maggiori risparmi rispetto ai costi. Un secondo esempio è quello dell'influenza, per la quale abbiamo considerato la popolazione di più di 65 anni, e il vaccino quadrivalente, e abbiamo diviso la popolazione tra basso rischio ed alto rischio, alto rischio, con più 1 o più patologia. Vedete di nuovo quali sono i tipi di input che abbiamo inserito, in questo caso l'orizzonte temporale è annuale. e in questo caso invece il Returnal Investment è inferiore a 1, quindi non abbiamo, non compensiamo totalmente la crescita di costo del vaccino con riduzioni di complicanze, costi diretti e indiretti, né con la vaccinazione attuale né con quella target. Abbiamo 0,41 e 0,45. L'ultimo esempio è quello dell'herpe zoster, nel quale abbiamo considerato i vari coorti di 65-70 anni, o da 50-64 con due più complicanze, e abbiamo considerato l'avestensione zostavax. Di nuovo, protettiva della società, 15 anni. I risultati in questi casi sono solo preliminari, anche in questo caso, benché sia leggermente più alto che nel caso dell'influenza, abbiamo una vaccinazione che risulta con un ROI tra lo 0,4 e 0,80 per la vaccinazione target, che però è molto sensibile a variazioni della percezione dei lavoratori e nei dati di incidenza di herpe zoster. I risultati preliminari del nostro modello ora ci dicono che per i livelli di copertura target raccomandati dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale abbiamo un ritorno di investimento positivo per alcune vaccinazioni, come l'HPV, e alcune vaccinazioni per bambini. E, mettendoli tutti insieme, si potrebbe avere un ritorno su un investimento positivo maggiore di 1. Sono risultati preliminari e ancora non abbiamo il risultato finale. Il punto di forza del modello è sicuramente avere accumulato tutte le vaccinazioni nella stessa analisi, benché in modelli diversi. La maggiore limitazione, chiaramente, è quella che non abbiamo utilizzato un modello dinamico e quindi abbiamo sottostimato i vantaggi di una riduzione di trasmissione nella popolazione. Quindi non abbiamo considerato l'herd immunity a sufficienza. I prossimi step saranno infatti quelli di sviluppare i modelli più complessi e dinamici per poter valutare questa trasmissione. Grazie dell'attenzione.